Non saranno le emorroidi a farmi lasciare la casa. Ha dichiarato con fermezza Enzo Paolo Turchi, ricordando la sfortunata esperienza vissuta all'Isola dei Famosi, durante una recente intervista rilasciata a Nuovo TV. Con questa affermazione, Turchi ha confermato, seppur indirettamente, la sua partecipazione alla prossima edizione del Grande Fratello. Enzo Paolo Turchi. La promessa per il Grande Fratello. Mentre qualcuno ha ricevuto un rifiuto per Pechino Express. Enzo Paolo Turchi, famoso ballerino e coreografo, nonché marito di Carmen Russo, ha lasciato intendere che sarà tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello. Anche se non ha rivelato apertamente la sua partecipazione, il suo nome è stato già menzionato da D'Agostia. E le sue dichiarazioni a Nuovo TV sembrano confermarlo. Carmen Russo. Che ha già partecipato al reality show di Canale 5 in passato. Ha dato al marito alcuni consigli preziosi per affrontare questa nuova avventura. Carmen, insieme alla figlia Maria, sosterrà Enzo Paolo da casa, facendo il tifo per lui. Ma c'è di più. Prima di entrare nella casa del Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi ha fatto una promessa. Questa volta, a differenza di quanto accaduto all'isola dei famosi, non si lascerà scoraggiare, nemmeno se dovesse affrontare problemi di emorroidi. Durante l'intervista, Turchi ha dichiarato. Non saranno le emorroidi a farmi lasciare la casa. Al momento non posso confermare nulla, ma mi piacerebbe molto partecipare. Se dovessi soffrire di emorroidi come mi è successo in Honduras, saprei come gestire la situazione. Laggiù non c'era nemmeno un bagno a disposizione. Qui, se dovesse accadere, sarebbe molto più semplice. Nostra figlia Maria si divertirebbe a fare il tifo per me. Il riferimento è legato alla sua partecipazione all'isola dei famosi nel 2005, quando Enzo Paolo Turchi ebbe la sfortuna di soffrire di emorroidi in condizioni molto difficili. Sono stato malissimo, aveva raccontato in una vecchia intervista alla Repubblica. Anche se le sue parole sono state un po' vaghe, Enzo Paolo Turchi ha lasciato intendere chiaramente che, se l'occasione si presenterà, non esiterà a partecipare e affronterà qualsiasi difficoltà. Con il ritorno del grande fratello, il primo concorrente potrebbe essere proprio lui.